Dal 31 luglio al 7 agosto torna la rassegna cinematografica più alta d'Italia. Sestriere Film Festival si appresta infatti a vivere la sua dodicesima edizione, presentata nella mattinata di giovedì 21 luglio presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Un intenso programma, come sempre dedicato al cinema di montagna, è arricchito da diverse iniziative collaterali, come attività escursionistiche guidate o il concerto finale Not Only Jets in Quota, presso il Rifugio Alpette, che fanno del Festival. Una manifestazione unica nel suo genere e un patrimonio per il territorio. Significa dare attraverso questo evento un'immagine anche culturale, mantenendo fede a quelle che sono le tradizioni della montagna, portando sullo schermo filmati a livello mondiale, quindi capendo anche quelle che sono le evoluzioni delle montagne in tutti i continenti attraverso queste pellicole e soprattutto anche creano i presupposti turistici che sono importanti perché raccolgono in quelle serate gli appassionati che provengono dalle due valli e anche da Torino. Il Festival Festival si caratterizza per la tipologia dei film che giungono al concorso che sono legati principalmente al grande alpinismo e alle tre alte del mondo. Il Festival sostiene l'attenzione all'ambiente grazie anche alla partnership con alcuni personaggi, alcune tematiche legate alle popolazioni in Nepal e in Tibet, ma anche grazie alla sostenibilità con dei dopufilm che riguardano i problemi ambientali e quelli del clima. Un ricco programma quello del Festival che vede in concorso 22 film provenienti da tutto il mondo, dalla Francia agli Emirati Arabi, passando per Polonia, Cina, Pakistan e Bulgaria, a cui si aggiungono otto proiezioni fuori concorso per un'immersione nella storia dell'alpinismo e un omaggio ai suoi protagonisti. I temi che toccano parlano del grande alpinismo, per cui la rampicata in montagna, i grandi personaggi e le leggende dell'alpinismo, i film con Lionel Messner, ricordando anche Walter Bonatti, ma soprattutto una panoramica su quelle che sono le montagne di tutto il mondo. In modo particolare si parla di paesaggi, di popolazioni, di attenzione all'ambiente, degli spopolamenti dei paesi, per cui veramente un taglio particolare su quello che è oggi la montagna, dal punto di vista ambientale, culturale e soprattutto di attenzione a quello che è il mondo climatico. La presentazione del Festival è stata anche l'occasione per la firma di un protocollo di collaborazione tra Comune di Sestriere e Museo Nazionale del Cinema, finalizzato a dare corpo a quel dialogo tra città e montagna, che troppo spesso rimane un proposito senza segui. Io ci credo e siamo veramente felici di essere i promotori di questa iniziativa perché credo che abbiamo delle potenzialità uniche se lavoriamo insieme, la città con la montagna, Torino con Sestriere in questo caso e dobbiamo sfruttarle sul mercato internazionale, con i tour operator internazionali perché io credo che abbiamo tutte le potenzialità sia a livello logistico e organizzativo per fare bene, dobbiamo solo lavorare uniti e riproporre lo slogan vincente delle Olimpiadi Torino 2006, quando Torino ha lavorato in connessione con la montagna e siamo stati vincenti.